ben trovati carissimi come state sono qui per invitarvi ai ritiri e agli esercizi che si terranno a valle d'acqua è un momento importante per tutta la diocesi in cui ci metteremo insieme all'ascolto dello spirito santo e ci alleneremo ad ascoltare per discernere la sua voce tra mille voci ascoltare per discernere ha bisogno di tempo e di spazio ha bisogno di imparare a fare silenzio a mettere da parte le tante voci per ascoltare la voce di dio la nostra vera e profonda voce la voce dei fratelli ed insieme discernere ciò che lo spirito santo ci sta chiamando a fare per rendere la nostra vita testimonianza vivente dell'amore di dio per ciascuno di noi vi aspetto a valle d'acqua arrivederci a tutti ascoltare per discernere è la via che ci accompagna a metterci in ascolto dello spirito che parla nel nostro vissuto di tutti i giorni nelle nostre relazioni in famiglia sul lavoro con gli amici nelle nostre attività di volontariato e questa è la via che ci aiuta a fare scelte responsabili e consapevoli e a crescere nella nostra intimità di coppia e con il signore praticamente ci ritagliamo un tempo individuale di coppia in un clima di silenzio e alla presenza dello spirito per ripercorrere ciò che lo spirito ci ha voluto suscitare nel corso della giornata nel corso della settimana e per condividere con il nostro coniuge ciò che si muove nel nostro cuore nel cuore della nostra coppia e vi aspettiamo allora a valle d'acqua al momento un caffè con andrea cristina un bel tempo di condivisione ascoltare per discernere ma io vorrei mettere accento su un'altra cosa ascoltarsi per discernere è quello che cercheremo di fare ascoltare il profondo di noi stessi allora lì possiamo anche scoprire che abbiamo bisogno di dio e che dio ha qualcosa da dirci molto importante per noi e per gli altri perciò non solo vogliamo ascoltare ma vogliamo anche ascoltarci ascoltare lo spirito che ci abita vi aspettiamo a valle d'acqua ciao ciao orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alla chiesa così è scritto nel libro dell'apocalisse ed è esattamente questo che stiamo facendo nel cammino sinodale ascoltare per discernere la voce dello spirito gli interventi che abbiamo appena sentiti di don francesco di madre sofia di andrea e cristina ci hanno comunicato qualcosa di che significa ascoltare per discernere ma per poterlo sperimentare più in profondità per poter comprendere l'arte del discernimento abbiamo bisogno di un tempo più prolungato ed ecco allora che come diocesi abbiamo pensato di offrire dei fine settimana e delle settimane di esercizi spirituali l'undici e il dodici giugno qui a valle d'acqua il sabato per intero e la domenica fino alle 17 lo stesso ritiro offerto anche il 18 e il 19 di giugno e poi ancora il 2 e il 3 luglio questo in modo particolare offerto alle famiglie a carpineto in tutte e tre questi ritiri per laici magari per i referenti sinodali i moderatori i catechisti volontari della carità tutti tutti i laici che vogliono in modo particolare ripeto le famiglie il 2 e il 3 luglio impareremo l'arte del discernimento a partire dal discernimento sulla propria vita è sicuramente un'esperienza che affinerà la nostra capacità di intercettare la voce dello spirito santo mettendo a frutto la sapienza di tanti autori spirituali del nostro tempo la stesso ritiro sarà offerto per le religiose a settembre e per i diaconi permanenti a settembre ma per chi volesse un'esperienza più prolungata ecco la settimana di esercizi spirituali dalla domenica sera 3 luglio all'otto venerdì a pranzo per i giovani dal terzo superiore in poi qui a valle d'acqua per tutti i laici adulti dal 5 al 10 luglio sempre qui a valle d'acqua sempre dalla domenica sera al venerdì a pranzo per i sacerdoti dal 28 agosto al 2 di settembre è un tempo privilegiato fatto di silenzio di ascolto della parola di meditazione personale e di condivisione un tempo prezioso allora di cui è bello avvantaggiarsi il più possibile anche chi non potesse venire a dormire qui a valle d'acqua ma potesse venire dal sabato mattina al sabato sera e poi dalla domenica mattina alla domenica pomeriggio fino alle 17 farà una cosa bellissima che lo aiuterà senz'altro chiediamo davvero allo spirito di ispirarci attraverso questi momenti per poter essere una comunità attenta a ciò che lo spirito dice alla chiesa di ascoli